io sto fuori e ho chiesto io una cosa ah ma c'è di quanto non ti ma c'è di quanto l'ho detto è una scommessa che in pratica passi ci giochi un sacco di volte per superare quello che abbiamo detto non è proprio così non è proprio così pesce ci giochi ogni giorno di gioco ogni giorno aspetta dimmi 97 non lo so mi sto facendo i team di bomba si aspetta visto altri passi acqua forse acqua forse nemmeno di brani materiali ma per fare le quattro chi è così c4 chi è così cg 0 che così va bene va bene ciao mario mario comunque ricordati che io ho presenti io ho per esempio la domenica non ci gioco mai non ci gioco mai forte o meglio ci gioco se posso ma ci gioco molto 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 però sì ho visto che mi hai mandato la canzone su instagram ho pure ringraziato ma ormai ti è andato ma ormai ti è andato ah ma si è morta ma si è morta avete uno shieldino in più no? avete uno shieldino in più no? non so un ca non so un ca ma poi si sente tutto l'audio ma poi si sente tutto l'audio eh sento l'eco eh sento l'eco ecco 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 Umberto Umberto se dovrei che sono arrivati quali che sono arrivati guarda ho fatto quattro chi è finito qua ho fatto quattro chi è finito qua c'è 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 il quattro bot fai fin da lì vabbà poi viene una persona aspettiamo che ne passano aspettiamo che ne passano altri no non so voglio vado anche io vado anche io vado anche io ma abbiamo lottato tutto abbiamo lottato tutto sì mhm più o meno vado 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 io quando mi seguite vado nella casa mi sposto vado 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 non c'ha senso non c'ha senso posso cambiare non c'era non lo so vedi vedi perché prima vedi perché prima avete raggi avete raggi super che è solo schifo schifo la che c'è due cittadini per 2 cittadini per tempo la se c'è chi lo vuoi omo prendo io omo prendo io per fortuna che questo non era il provino se no andavo peggio di vecchio scrivi ma tanto dico che non prima tanto dico che non sono dove stanno i raggi scusato sbagliato scusato sbagliato dove stanno i raggi l'unico è doveva fare un cilio non c'è una città di voglia di voglia di voglia di voglia di a ecco perché grazie ma io ma io un pompa migliore di quello del voglio e di quello del porto il pompa e non lo è io mi sa mai a 80 80 che attraversi tutta la mappa che sono sicuro che qua ci sono sicuro che qua c'è gente io ho il cecchino quindi si dopo risentò che dici diciamo che sto zitto come ancora ma sto zitto come no la mia vita a farmi vita a farvi qualcuno mi lancia ragazzo addosso di volo e poi faccio dei trick con il cecchino ah sì sì ah sì sì poi perdere poi perdere però oppure invece esplodo c'è il verco dice che c'è una dice che c'è un obiettivo che tu devi decidere una persona decidere una persona stando sul raggio stando sul raggio ma io sto bt 1 ma io non ho mai sentito ma ma nemmeno non mi rubare i figli comunque comunque io ho massimo di legno comunque sono mai nemici stanno tutti perché sì che si si vogliono ricaricare infatti la sef si è chiusa a pantano ci rifugliamo pure noi meglio ma io ho messo a me tanto vicino questa acqua che però mi devo fare mattoni e metà avevo ragione che c'era ragazzi che c'è la pagina ragazzo stanno facendo tanto che fa stiglio se io non so ancora un giorno ancora un mare qui son falò aspettatemi quello sta laggando la maniera stavaggando la maniera no per quanto no per quanto poco avrei preso se non fossero e basta ti zombie di schifo scindone cazzarola cazzarola c'è chi lo blu wow ok svecci svecci Adesso sta qui per qui per curato E' infatti E' infatti Abbattuto uno Abbattuto uno Bravo Grazie Chi è che mi ha salvato il culo Scusate Eh grazie Aspetta c'è il medico Avete l'assalto blu Avete l'assalto blu Sì Da quello che ha lasciato lui che mi sono preso Ah ok Ah ok Blackhead vieni qua Blackhead vieni qua Bravo Bravo Andate nell'acqua Eh questi ci hanno avuto Anche un po' culo Ma ci sono impalato Perché se no me li sta rifatti Anche la sola E' un po' culo Però Però Grazie a qualcuno che mi ha salvato A qualcuno che mi ha salvato Ti devi Ti devi Ti devi Io non ho fatto niente Togliato D'arri Eh va bene Eh va bene Oddio Oddio Sono me stanno camperati Sono me stanno camperati Dai non è fattibile Dice che siamo in 12 Siamo in 12 Sì sono camperati Forza In teoria dovremmo essere In teoria dovremmo essere Quasi tutti Quasi tutti Qui a Pantano Qui a Pantano Eh la safe Sicure Siamo in 12 Eh però Eh però Siamo qui Siamo verso qui C'è praticamente C'è praticamente C'è chi Adesso sono la mia E c'è chi E c'è chi lo blu Siamo in 10 Sì Sì Oh non ho venga Perché Non ho venga Perché 8 7 Stanno morendo Dio santo Dio santo Io sto cercando Io 0 kill Che schifo Io 1 Ah e non sono 5 Ah e non sono 5 Eh solo Solo Eh oh per me è poco Eh oh per me è poco Beh più di 0 e 1 Sì sicuro Beh questo Sì Questo sì Se sei contare sì Sì C'è praticamente Stai qui Stai qui Un po' di baro Oh ma siamo rimasti 3 Oh ma siamo rimasti 3 Contro 3 Ah vabbè E io stavo andando Stavo andando Solo Questo punto Costruiamo Altissime Cicchiamo tutti No ma io me la Io voglio provare Facciamo Oh Rilancio Corrazzo Però dove Riprende qualcuno No Ci sto Ci sto Se ci riesco Faccio una cosa Fica Per il canale Ok Come lo faccio Oh c'è gente Sta arrivando Sta arrivando Bravo Ma dai Rilanmott Quindi l'ultimo Lo facciamo Come Facciamo Come Dici tu Aspetta Aspetta Facciamo Facciamo Una cosa Aspetta Facciamo Una cosa Aspetta Lancia Lancia Milano Lancia Milano Aspetta Ci sei Vai Ci sei 3 Dimmi quanto saltare Dimmi quanto saltare 3 2 1 Via No 3 2 1 Via No Per poco Per poco 3 2 1 Via Cazzarola Aspetta Lo devo guardare Aspetta Lo devo guardare Aspetta Aspetta Dillo però Dillo però 3 2 1 Via Vabbè Vabbè Non c'è nessuno Non c'è nessuno Sì Sì Ora però sono utile raggi Da lì Oddio Oddio Eccoli 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 Buongiorno Buongiorno Oh l'ho preso Oh Quindi l'ho saputo Da me Vai Hydro E tu Vai Hydro Non si sa come mi sono rialzato Ma va bene Mi sono rialzato Ma va bene Vabbè Vabbè Uno era Nabbo L'altro no Un'era Nabbo L'altro no Sì L'altro no Vabbè 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 Sarebbe stato più figo Con il razzo Purtroppo Ma va bene Purtroppo Mi faccio Cacetto E' No Purtroppo Ma Non c'è In Purtroppo D Grazie a tutti